giornate decisive per quanto riguarda bitcoin benvenuti su investingguide.crypto aggiornamento flash della giornata per quanto riguarda bitcoin dal punto di vista dell'analisi grafica e in particolar modo anche on chain come possiamo osservare dal grafico triangolare rialzista che si viene a formare per quanto riguarda la settimanale quindi le candele a comparto settimanale a livello grafico possiamo notare che il prezzo di bitcoin attualmente a 47.800 dollari sembra stia resistendo alla conformazione della minimi sempre più alti e quindi possiamo osservare che questo trend sembra incanalarsi verso una riduzione un'accumulazione una riduzione anche dei prezzi a livello di contrazione del volume e del prezzo per cui sembrerebbe che tenga da un punto di vista settimanale certo è che se questo prezzo dovesse andare a rompere il minimo dei 45.200 e ulteriormente dovesse sfondare poi questa linea di trend dinamica triangolare verso l'alto che giustamente cerca di mantenere un andamento di questo tipo quindi invalidare il trend rialzista e rompere quindi al di sotto di questo trend pericolosamente potrebbe andare addirittura al di sotto dei 42.000 che è il limite soglia psicologica dovuto anche al fatto della scena ossia della candela che nella giornata dell'8 di dicembre aveva creato un minimo di supporto dinamico su questa linea eccola qui la candela che vedete con l'indicatore proprio del cursore quindi attendiamo naturalmente un miglioramento anche se da un punto di vista anche di trading view l'indicatore tecnico indica di vendita quindi c'è anche una certa paura dal punto di vista degli investitori nella indicazione di quello che sta accadendo però questa indicazione di paura seppur bitcoin come potete osservare anche in precedenza ci aveva abituato a una discesa molto più repentina da marzo 2021 fino ad arrivare a luglio 26 di luglio e poi è ripartito di nuovo a formare ulteriori massimi quindi non è detto che questo trend triangolare sia tutta una sorta di previsione non veritiera ma potrebbe realmente se resiste potrebbe realmente formarsi detto ciò possiamo anche osservare per quanto riguarda ethereum che sembra leggermente più debole e ha rotto i 3.900 quindi sta scendendo verso i 3.500 e questo momento quindi si sta posizionando verso un ritest dei suoi supporti che potrebbero realmente essere indicati intorno ai 2.500 speriamo di no nel senso che potrebbe essere un'opportunità per ricomprare ethereum a prezzi più bassi oppure magari si ferma molto prima e quindi potrebbe essere un'opportunità di rifiato di riposo del per poi ritestare nuovi massimi successivamente quindi attenzione comunque sia bitcoin che ethereum per quanto riguarda invece ethereum contro bitcoin notiamo che comunque il rialzista ha tentato il di superare la resistenza 0,084 non c'è riuscito e adesso sta ritentando di ritestare il supporto a 0,075 bitcoin nulla da dire se non per il fatto che tutto dipende da bitcoin cosa farà nei prossimi giorni se manterrà questa trend line di triangolare rialzista oppure romperà questo valore di rialzo al cui sotto valore dei 45.000 potrebbe realmente andare a ritestare i 42.000 perché non rompere ulteriormente al ribasso quindi tutto dipende da questo comparto punto di vista della coin market cap su coin market cap notiamo una market cap di 2.183 miliardi quindi leggera diminuzione quindi è un po tutto il comparto che sta scendendo in toto quindi le persone stanno cercando di uscire per salvare il salvabile e tornare in valuta stabile per quanto invece concerne le 24 ore di volume siamo intorno ai 100 miliardi di dollari bitcoin sempre mantiene un 41.4 di dominance e ethereum il 21 con un gas way in salita da ieri che era intorno ai 40 o 68 guay per quanto riguarda invece tutte le candele votiamo subito che ci siamo tutti quanti a candele rosse quindi siamo tutti in discesa salvo le stable coin che mantengono un certo trend di stabilità ma è ovvio che sia così per quanto riguarda invece near protocol è l'unico che mantiene un 29 per cento nell'ultima settimana seppur oggi sta scendendo del 4 per cento in generale a parte tesos di leggera salita stiamo parlando di un comparto ed eos che sta avendo anche dei nuovi progetti sviluppi a livello anche di protocollo e di ecosistema nella sua blockchain siamo comunque molto deboli perché non ci sono crescita a due cifre ma stiamo parlando di piccolezza come salita per alcune criptovalute poi tutto il resto è tutto un comparto tutto rosso bene vi ringrazio per l'osservazione concludo naturalmente per quanto riguarda una notizia positiva che è quella on chain che non è proprio coerente con il prezzo attuale bitcoin perché continua un trend di ribasso della quantità di riserva di bitcoin detenuta in tutti gli exchange che questa è di base una notizia che potrebbe fare intendere un'esplosione del prezzo proprio dovuto al fatto dell'aumento della rarità del bene se naturalmente la disponibilità si riduce all'interno dei principali organi centralizzati che servono proprio a permettere l'acquisto di tale bene è ovvio pensare che questa fuoriuscita di bitcoin potrebbe essere un indicatore sicuramente positivo vediamolo anche per quanto riguarda ethereum che potrebbe essere indicativo del segnale vedete come anche ethereum si sta muovendo al ribasso ed è in controtendenza con il prezzo di discesa che ethereum sta segnando come potete notare non si tratta proprio di una discesa repentina ma sembra quasi una sorta di ritracciamento per poter poi ripartire anche verso l'alto come prezzo di ethereum rispetto anche alla quantità di ethereum detenuti all'interno di tutti gli exchange lo stesso dicasi per bitcoin che come sappiamo dal punto di vista del prezzo è sempre un po' più ampia la discesa quindi potrebbe essere un ampio valore di ritracciamento del prezzo per poi ripartire con maggiore forza quindi attendiamo naturalmente l'ha fatto naturalmente in questi precedenti periodi come vedete è sceso e poi ripartito di nuovo è disceso e poi vedremo se ripartirà anch'esso di nuovo però naturalmente come potete osservare la salita che ha avuto nel contempo del periodo precedente non era accompagnata da una così drastica riduzione delle quantità detenute in tutti gli exchange quindi questo fa pensare non spero che non di non essere l'unica a vedere in quest'ottica ma l'esplosione del prezzo al rialzo potrebbe essere dirompente a dir poco salvo naturalmente che nel breve c'è questo periodo di riflessione dal punto di vista del prezzo di bitcoin quindi non faccio analisi naturalmente giornalieri o quattro ore perché non ha proprio senso dobbiamo cercare di guardarla senza visualizzare i rumori di fondo dovute proprio alle candele che hanno una dinamicità molto più 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 rapida e quindi meglio visualizzare in questo periodo con candele settimanali spero di esservi stato utile ringrazio sempre per i vostri like se non vi siete registrati attivate anche la campanellina registrando in modo tale da poter visualizzare al più breve tempo possibile gli aggiornamenti del mio canale grazie ancora ciao e alla prossima